ah ecco che qua a gusto c'è Sergio ah vattene un po' a casa te che ce lo fa un discorso e tanto avevo finito e sei degnato finalmente da venire qui guarda che t'ho fatto a sto negozio è bello è cambiato da così a così non ho rifornito tutta la roba ci ho speso le milioni ma tutta roba che senti sto presciutto che senti come ho mangiato senti sto presciutto d'ho detto è dolce è un zucchero a Sergio lo senti e sto lì io senti sto lì queste sono greghe greghi e no ma dai sono greghi sono buoni come sto a dire la verità sono greghe senti Sergio io credo mi fa un bel discorso come devi dire se non so troppo indiscreto ma di che cazzo vuoi da mia figlia in che senso in che senso io c'ho una figlia sola e non mi va che va presa in giro ma io mica la prendo in giro anzi ma è molto io riconto a fatto che mi è successo ieri mi ha detto a papà mi porti a comprare un par di scarpe a via veneto capirai a me mi sei allargato il cuore io e mio figlio a via veneto qua chi me la guardava mentre se stava guardava tenendo delle scarpe passano due giovanotti e dicono una frase che a me non mi è piaciuta io mi ciro dico la cornuto via qua la cornuto è venuto tutto spavardo il più grosso mi ha dato un cassotto in bocca me lo so guardato ho sputato e ho detto manca il sangue mi fa uscire la cornuto in guardia gli ho dato un destro in bocca mi è cascato per te la come Gesù Cristo io l'ho terzetto nasale gli ho frantumato le mucose e gli dicevo alzati alzati a cornuto alzati gli ha detto pieno di sangue per te era il tolitri non si è alzato me lo so guardato me so girato me so risistemato a giacca mi ha detto papà che è successo a mia figlia niente due di passaggio no ma comprai scarpe gli ho detto senti te la sposi o non te la sposi mi fia no ma io me la sposo adesso giusto il tempo un po' di così un po' di ingranare con questo lavoro nuovo ah Sergio so ho quattro anni che ingrani con questo lavoro qui dentro ci ha ingranato tutto ah Sergio pensa che mi fia che mi fia